buonasera a tutti amici di sportan channel oggi martedì 3 dicembre abbiamo in campo intanto i due capitani delle due squadre experience team e inventa cpm abbiamo per experience il capitano fabrizio loza ciao fabrizio ciao e per inventa cpm abbiamo alessandro pizzocaro ciao ciao parto da te alessandro siete pronti per diciamo questa questa competizione certo certo vi siete allenati allenati mai durante la settimana mai e siamo pronti siamo pronti sempre in classifica mi sono appena aggiornata adesso sull'applicazione di sportlan calcio punto dolente punto dolente siete a quanti punti sei punti un punto in più di loro stiamo in più di loro esatto passo la parola direttamente a franco senti come come abbiamo preparato la squadra questa settimana esattamente come gli avversari quindi con le gambe sotto il tavolo bene la migliore preparazione una buona una buona preparazione per poi correre esatto esatto avere un motivo per un po di energia esatto per poter correre più forti in campo va bene allora in bocca al lupo vi faccio stringere la mano per l'inizio della partita e ci vediamo poi al risultato ciao in bocca al lupo tutti due ciao questo qua ti aiuta solo a paolo ah Viene! Dai, 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 andiamo! Vai, calmò! Ok, solo! Entra, 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 entra! Scappa Fabri, scappa! Solo e solo Toniella! Andiamo qui! Poi che guarda qui, lo vede lo stesso! Stefano, ce l'hai largo! Ce l'hai largo! Ci danno! Ok! Oh, bella! Lui è il cagado! Lui è il cagado! Venga, Antonio! Tiriamoci, giriamoci! Venga! Interseca! Bene, bravo, bravo, bravo! Cotto! Bravo! A due su uno! Scappato, anche scappato! Bene, atto! Cotto! Non c'è la linea! Non lasciamo lì! No! Vai! A coro! No! 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 Grazie a tutti. 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 Buona. Grazie a tutti. 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 Gigi, 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 Gigi. Vai da, vado, vado a vado. Hop! Ok, chi to' fascia? Per chi fa, ste pure là, Gigi. Vieni qua, ste. Ma basta un, uno, qua te. Vieni, ulti, che non lo faccia. Vieni, scendi. Vado, vado... Vado, vado la questione, vado a Vado. Vado, vado a te. problemaa, vado. Vado, 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 vado. Dijon. Vado, vado. Vado, vado. Grazie a tutti 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 Andiamo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Vai Vai Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Vai Grazie a tutti Grazie a tutti Vai Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti